Vai Alessia! Vai, vai, io ti vedo lì! La Manuela è tua! Fai le fragole, Fai Lossi! Fai lui! Dai Alessia! Oh! E' da là! Ricacciato! Ma io... Esa! Adesso! Adesso! Non è mai, a me, a me, a me! Ma io! Ho capito Neri, si senti strillando che non vuoi, mi chiede cosa ti viene, è proprio il ragazzino stesso, non può parlare della squadra, non la stava girata. Roma, capozza, del mondo non fa bene, Roma, capozza, del mondo non fa bene, Roma, capozza, del mondo non fa bene. Roma, capozza, del mondo non fa bene.